Già nella fase preparatoria formazioni di estrema destra hanno manifestato l'intenzione di appoggiare la protesta partecipando poi effettivamente ai presidi e alle iniziative di piazza svoltesi nei giorni seguenti. Fin da questa fase sono stati sensibilizzati i prefetti e questori i quali hanno immediatamente avviato una mirata attività informativa allo scopo di scongiurare l'attuazione di azioni illegali e per garantire al contempo il diritto di manifestare pacificamente le ragioni del dissenso senza che ne soffrissero i diritti fondamentali dei cittadini. In quest'ottica che postulava la necessità che la protesta rimanesse incanalata nella legalità particolare attenzione è stata rivolta ai servizi essenziali per assicurarne la continuità.